mi come mi vedo scura mamma mia seguitemi forse riesco a trovare un po solo sono un pochettino più in luce bene vediamo un po se qui mi trovo a nuaggio attenzione che mi si ho un millesimo proprio millesimo di reggisena quindi qua mi prendo della troia 15 volte allora volevo parlarvi ragazzi di questa simpatica polemica con bello figo che è stato anche intervistato da una persona che io trovo un po inquietante qual è del pietro e niente lui parlava della sua canzone di una delle sue canzoni perché ne ha fatte diverse in cui parlava della sua situazione o della situazione di molti che sono appunto immigrati e che insomma fanno la bella vita mentre gli italiani dopo il terremoto se ne stanno un po così distrutti senza aiuti e ci sono state molte prese di posizione tra cui quella di l'an brenedetto che secondo me ha parlato molto bene ma anche max nore ha parlato forse ancora meglio per differenze loro caratteriali non perde merito così di l'an brenedetto e niente max nore diceva appunto quello che sostengo anch'io che insomma se vuoi protestare protesta contro i politici non te la prendere con gli immigrati perché loro probabilmente hanno visto delle cose brutte se non le hanno neanche viste perché devi prendertela coloro che non decidono certe cose loro è certo che se qualcuno mi dà un sacco di soldi si prende si prende cura di me io accetto che poi non è neanche detto non si sa se proprio veramente ricevono tutti quei soldi comunque se uno mi desse un sacco di soldi per dire io l'accetto cioè me ne sbatti le balle perché nella vita veramente ho provato a fare di tutto i risultati sono stati abbastanza pietosi perché appena mi sono laureata le borse di tutto il mondo sono andate a cagare e quindi ho avuto dieci anni di casini consecutivi tra licenziamenti e rottore di palle e qualcuno cattivo perché questa solo cattiveria di gente che proprio usate si fa le tippe scusate questa la sinistra ma federica la usa tantissimo mi ha detto che è tutta colpa mia tutta colpa mia un paio di palle perché comunque se devo prendermi la colpa di aver preso un dottorato studiando io me la prendo e ne sono orgogliosa e se devo prendermi la colpa ultimamente di aver fatto due lavori di aver finito due corsi di cui uno 150 ore di tedesco io mi prendo la colpa mi prendo anche certificati e mi prenderei anche un lavoro ben pagato ecco nel caso e quindi se qualcuno mi desse dei soldi non direi mai no capisco questi questi immigrati sono scemo dico di no no voglio morire no e quindi secondo me appunto prendersela con gli immigrati non porta assolutamente niente prendiamocela con i politici perché veramente hanno fatto delle leggi col culo e per questo che l'italia va così questo mi sembra chiaro però non so come mai bisogna odiare gli immigrati cioè io non li odio finché non non mi vengono a fare violenza comportarsi male eccetera eccetera alcuni di loro si comportano male altri no perché nella mia ditta siamo quasi tutti immigrati alcuni anche non esattamente arrivano insomma alcuni non esattamente arrivano dall'italia io lavoro in germania siamo italiani polacchi siamo bulgari c'è un armeno ci sono persone dalla siria insomma una persona che mi comunque mi guida un autotreno per dei giorni e dei giorni comunque avendo preso la patente tedesca al mio rispetto il mio rispetto al di là di quello che possono essere gli errori sul lavoro eccetera quindi non io non mi sento mai di mettere tutti nello stesso calderone anche perché quando mi si confonde con una ragazza italiana tipo io mi incazzo perché le caratteristiche tipiche dell'italiana io non ce le ho soprattutto caratteriali cioè io non cucino odio pulire odio la casa me ne frega un cazzo di cucinare di dedicarmi al maritino stirando cioè io mi rompo le palle a fare questi lavori ripetitivi piuttosto due lavori gli ho detto al mio ragazzo io faccio due lavori però non darmi da cucinare niente perché a me i bruciori di stomaco cioè sono felice che per esempio questo ragazzo mi ha capito in questo senso mi fa schifo poi anche anche fisicamente io sono bianca o va bene ho questi capelli che sono tinti sarebbero più scuri ma non ho molto le caratteristiche anche fisiche dell'italiano sono un po più alta della media nonostante i miei tre coglioni dicendomi che sono bassa sono bassa effettivamente perché tedeschi sono tutti giganti ma me ne sbatto il cazzo non mi sento italiana proprio per niente sì ho la cittadinanza quindi ho sempre detestato essermi considerata come gli altri ho voluto studiare una cosa che non era per una ragazza ho fatto ingegneria meccanica e l'ho finita cioè io mi sono presa le responsabilità non è che ho fatto una scelta colpo di testa poi non ho al primo problema ho lasciato l'università no io ho fatto anche il dottorato tutto quello che faceva poteva fare incazzare l'ho fatto ancora due tre cose che vorrei tanto fare per fare incazzare l'uomo no l'uomo italiano pieno di sé eccetera eccetera e infatti ultimamente mi sto dando da fare in questo senso perché ho invitato nel nuovo gruppo di facebook ho invitato un ragazzo che si è incazzato come una iena iniziando a dire tu come ti permetti di invitarmi cioè come se l'avessi insultato a sangue no soltanto come un cane perché allora lui aveva mandato all'inizio un bacino io l'ho confuso con un altro ho detto scusa ma tu sei quello che mi insultavo online no non sono io però va bene non sei tu no non è che voglio dire sì io che ho fatto una domanda può dar fastidio ma una persona normale di dice ma tu come ti permetti al limite di farmi questa domanda qui non è che aspetta 15 giorni un mese per vendicarsi quando tu lo inviti che io non mi ricordavo neanche più questo discorso perché nella mia vita sono talmente tante cose io apro anche adesso come vedete un sacco di parentesi non so dove finisce questo discorso comunque cioè io nella vita ho proprio di fare incazzare l'orgoglio dell'uomo italiano più lo faccio incazzare più mi sento me stessa adesso devo andare perché la batteria sta morendo ciao a tutti dall'Alessandra